In questo momento è di moda lo spazio, perché è partita un'altra missione, un'altra delle importantissime missioni e se ne è parlato anche molto da noi perché una delle astronaute è donna, io ne sono molto contenta. Poi quando l'accento si mette un po' troppo sul sesso, qualche volta lo trovo anche... però insomma è stata talmente brava ad arrivare sullo spazio. Ma voi avete fatto l'acqua per lo spazio? Noi diamo continuativamente l'acqua nello spazio, l'ultimo invio è stato di settembre, abbiamo mandato 12.000 litri, che naturalmente vengono utilizzati col contagocce, usiamo questo sistema, perché... È costosissima? E lassù si costa, qui da noi costa 1,6 euro per mille litri, là per un litro si spendono 20.000 euro. Quindi è chiaro che là si cerca di risparmiare a massa, anche senza essere dei liguri o altri sistemi, però è indiscutibile che il risparmio diventa, anche per dare un'ulteriore garanzia, perché adesso è la Stazione Spaziale Internazionale, domani, e per domani significa fra cinque anni, domani bisogna naturalmente studiare e organizzare il trasporto a lunga distanza, sarà lo sbarco su Marte. È certo. E' tanto è vero che noi stiamo già studiando un sistema particolare per stabilizzare l'acqua di Marte. Ecco, questa è una bellissima notizia di cui le sarò eternamente grazie.